Poco fa a Bologna si è svolto un presidio davanti all'ospedale Sant'Orsola, promosso da potere al popolo, che aderisce alla campagna Nessun profitto sulla pandemia. Chiedono il controllo pubblico sui vaccini, visto spiegano che a loro si è arrivati grazie alla ricerca finanziata dalle tasse dei cittadini. Chiedono la sospensione immediata dei brevetti e trasparenza che i dati sui costi di produzione, sui fondi pubblici investiti, sui contratti tra le autorità pubbliche e le multinazionali siano resi pubblici.